stiamo venendo fuori dalla grotta siamo nelle gole del bussento ma è meglio partire dall'inizio di questa storia grazie mille la bellezza sconfinata della natura grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Stavolta passo e niente bagno, troppo freddo. Sta piovendo, troveremo i capelli di Venere tutti arricciati. Grazie per la visione! Grazie a tutti!